Vedi ragazzi, ciao! Oggi ci ho pensato tardi a un video che c'è grande, ma fa lo stesso. Tantate un po' che bella strada che abbiamo stasera. Facciamoci un giro, ma? Vediamo chi sono i festeggiati della domenica. Vediamo un po'. Signori, Mario! Un cantante con tutta la nostra ventica domenica! Scimieriamo, scimieriamo! Scimieriamo! Stiamo cantando, ci parlavano anche con la domenica di Mario. Luca, tra poco o poco ci cantiamo lezzo di cagare. Tanti auguri Mario, tanti auguri. Vedi così tenere la famiglia di Anna! Signori, scimieriamo! Tanti auguri Anna! Scimieriamo, scimieriamo! Abbiamo voluto guarda essere una cantante! Tanti auguri! E ne approfitto, ancora non se ne sono andati, per dare un saluto all'animatrice della domenica. Oglia e figlia delle! Ciao a delle! Scimieriamo, a delle! Scimieriamo! Meno male che non stiamo tagliando via così... Salutate! E adesso andiamo dalla signora Rina, con tutta la sua famiglia, oggi 90 anni, auguri Rina! D'altro ammulli! Allora, signori, ammulli! Viva la sua famiglia, divertite la musica, bene! Opa! E questo è il mio mostro di un palazzo, si fa un passaggio! E questi erano i festeggiati di questa domenica, signori! Alla prossima! Ciao! Ciao!